Grazie Presidente, intervengo per chiedere al Parlamento e alla Commissione un rinnovato impegno per realizzare l'iniziativa sulla resilienza idrica annunciata dal Presidente von der Leyen lo scorso settembre. Oggi purtroppo l'emergenza è diventata urgenza, l'acqua è un problema dove non cade ed è un pericolo enorme nei territori dove purtroppo cade in maniera incontrollabile e dannosa, come dimostrano i fatti recenti nei Paesi dell'Est e del Centro Europa, ma in queste ore anche nel mio Paese e nella mia Regione, dove ha perso la vita il caporeparto dei Vigili del Fuoco Antonio Ciccorelli, che oggi qui voglio ricordare. L'Europa ha il dovere di indicare soluzioni e interventi. Lavoriamo insieme per un blu deal europeo con strategie di sistema, azioni di mitigazione del clima su scala globale, interventi di adattamento, efficienza delle reti, partendo dall'analisi della domanda dell'offerta dell'acqua. L'acqua è la forza motrice della natura, diceva Leonardo da Vinci. A noi il compito di preservare e governare la più grande forza che il pianeta ci ha dato.